Emilio Pedron è uno dei manager più bravi di lungo corso del mondo del vino in Italia e sta costruendo in questi ultimi anni uno dei gruppi più articolati, autorevoli ed importanti, grazie ad investimenti nei migliori terroir del nostro paese, dalla Valpolicella a Montalcino, da Montepulciano al Chianti Classico, dal Collio al Verdicchio. Qual è il futuro del vino? Quali filosofie si stanno affermando nel mondo e quindi dove stanno andando gli investimenti della Bertani Domains? Allora io credo che mai come in questo momento il consumatore nuovo, molti negli Stati Uniti li chiamano i millennials, ma comunque il consumatore un po' più aggiornato, più preparato, abbia bisogno di sicurezza, abbia bisogno di certezza e quindi di autenticità di quello che beve e anche di quello che mangia. Dall'altra parte il produttore di vino per affermarsi ha estremo bisogno di differenze, differenze per fare un po' di valore aggiunto rispetto agli altri, altrimenti deve competere sul prezzo. Allora mettendo in sinergia il bisogno di verità, di autenticità, di certezze e il bisogno di differenza del produttore è la strategia abbastanza chiara, quella di far ritornare le nostre denominazioni verso una purezza stilistica e autenticità stilistica molto legata al territorio vero che forse abbiamo abbandonato nel tempo per piacere di più ai nostri consumatori. Dentro anche i migliori territori d'Italia, dove peraltro siete ubicati con sei aziende, tante anime e tante teste, spesso in contrasto, divise quasi su tutto, quali parametri, anche pochi, sono secondo lei da fissare per il buon andamento e per un progresso dei territori, per evitare anche di finire poi in qualche tribunale d'Italia? Per me le cose sono molto semplici, bisogna cercare coesione, coesione di intenti, bisogna avere fisso la voglia di un ritorno all'autenticità territoriale, bisogna avere un minimo di prezzo con cui vendere e commercializzare la nostra denominazione e bisogna avere una promozione vera, bisogna avere un modo di pubblicizzare e di promozionare i nostri vini che sia adatta ai nuovi tempi, quindi abbandonando dei linguaggi obsoleti che abbiamo sempre usato negli ultimi 20-30 anni per i vini di qualità. Vini italiani sempre più all'estero, vuol dire che in Italia non si riesce più a battere chiodo? No, noi siamo stati quelli che due anni fa, dopo un vinita in cui si è parlato solo di esportazione, ci siamo messi di busto buono a dire noi vogliamo crescere in Italia e lo stiamo facendo, lo stiamo facendo cambiando strategia di vendita, anzitutto trovando i vini giusti per il momento e non diventando dei venditori del nostro vino al ristoratore ma degli aiutanti del ristoratore a far uscire il nostro vino, quindi siamo più dei promotori della nostra marca, quindi vini giusti, vini corretti, adatti per ogni zona e per ogni territorio e uomini diversi da prima, quindi non più collocatori di casse di vino all'interno del ristoratore ma persone capaci di aiutare il ristoratore a far uscire il nostro vino. Mercati del mondo, investire di più nei mercati solidi e consolidati come Stati Uniti, Inghilterra, Canada o scommettere forte sugli emergenti, Cina che però non stanno dando grandi soddisfazioni fino adesso. Assolutamente investire di più e meglio sui grandi mercati consolidati, i nuovi mercati arriveranno ma per adesso sono solo investimenti per le aziende, ci siamo illusi sulla Cina e non è ancora partita, abbiamo lavorato bene in Russia e nel Brasile però dove adesso la crisi economica e il cambio soprattutto della moneta locale si sta mettendo a K.O. Bertani Domains è un nome tutelare della Valpolicella ma voi siete anche a Montalcino, a Montepulciano, Chianti Classico, Collio, Verdicchio e quindi al gruppo Bertani tra i grandi territori manca solo il Piemonte, ci state pensando? Ma insomma per ora la nostra priorità è di finire bene questo progetto che ci si è andato, abbiamo trovato una grandissima affinità sinergica fra i valori dell'azienda del nome Bertani, della strategia e della filosofia produttiva di Bertani con il nuovo che avanza del Brunello dove anche lì l'assoluta unicità del San Giovese, quella rigidità di cose, insomma abbiamo trovato una sinergia che ci ha aiutato in questa nostra proiezione e anche questo nostro modo di fare strategia di vendita. Per ora ci fermiamo, vogliamo consolidare il nostro progetto, vogliamo definirlo perché una volta definito diventiamo un'unità aggregante che possa facilmente poi approcciare altre zone e sicuramente quella che ci manca in maniera evidente è il Piemonte anche se sono molto innamorato dell'Abruzzo.